Partirà il prossimo mese di novembre la gara d'appalto per la realizzazione dell'impianto permanente che permetterà di iniziare a svuotare la vasca di colmata esistente sulla banchina del porto di Pescara, prelevando i primi 40 mila metri cubi di materiale di recupero, per materie prime e seconde da impiegare in edilizia, ossia sabbia, argilla e ghiaia. E' quanto deciso nel corso dell'ultima conferenza dei servizi chiusa dal provveditorato alle opere pubbliche, l'importo dell'intervento è di poco superiore a un milione di euro e per primavera il cantiere sarà esecutivo per fermarsi prima dell'estate. E' quanto ha sottolineato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ufficializzando l'esito della conferenza dei servizi convocata nei giorni scorsi sul porto di Pescara. Se questa tecnologia è stata autorizzata per lo svuotamento della vasca di colmata può essere altresì autorizzata con una piccola fase di decantazione anche per i fanghi del fiume Pescara. Questo ci comporterà la possibilità di avere questa infrastruttura fissa in porto che permetterà via via di svuotare la vasca di colmata e di dragare le aree del porto mentre nel frattempo continua la fase di manutenzione della sola canalina. Arrivando da qui ai mesi che abbiamo di fronte a noi ad una soluzione definitiva ovvero a un fondale che permetta alle nostre imbarcazioni di vivere in maniera leggermente più tranquilla la loro attività lavorativa. Presidente, lei ha sottolineato l'importanza del cambio culturale soprattutto di approccio delle istituzioni verso queste problematiche. Sì, devo dire che anche le associazioni dei nostri armatori, dei nostri pescatori potranno vedere che vi è un'assoluta attenzione di regione, comune, autorità di sistema portuale ed altre istituzioni. Abbiamo appena emesso un bando già consegnate le risorse ai beneficiari, molto apprezzato sui danni che ci sono stati alle imbarcazioni per le fasi di non dragaggio. Noi siamo molto attenti a questa dimensione. Chiaramente sono procedure molto complicate perché ci sono di mezzo tante autorizzazioni ambientali e oggi sull'ambiente anche giustamente vi è una particolare attenzione. Quei fanghi che dobbiamo dragare sono lì da molto tempo e di conseguenza contengono varie sezioni che devono essere smaltite in maniera diversa. Però io dico che la presenza di questa infrastruttura fissa in porto rappresenterà una svolta di narrazione, cioè non sarà più un'attività episodica che inizia e finisce con maggiore o minore fortuna, ma un'attività sistematica e strutturale.